bentornati su my football jersey finalmente a grande attesa anch'io devo dire l'aspettavo da parecchio la quarta maglia del milan che tanto ha fatto parlare in edizione fan non 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 La maglia secondo me è veramente molto bella Però devo dirvi la verità, secondo me è più bella la bianca Tra l'altro non preoccupatevi perché arriverà Comunque molto bella, rifiniture in grigio Maglia veramente molto elegante che vi farà subito notare Il costo l'avete visto molto basso Tra l'altro include anche le spese di spedizione Qualità e tempi di spedizione molto buoni Ora vi lascio la parte finale Prima però iscrivetevi al canale Lo dico sempre però questo è importantissimo Se volete vedere maglie nuove tutti i giorni Per oggi è tutto Alla prossima